Il Covid non ferma le truffe ai danni di anziani, ma la polizia è riuscita invece ad arrestare un pendolare del crimine che potrebbe essere l'autore di una serie di truffe compiute nella zona di Chietiscalo. Si tratta di un giovane napoletano di 25 anni che era girato una 85 enne dalla quale lo scorso 8 febbraio si è fatto consegnare circa 4.000 euro tra denaro contante e preziosi, compresa la fede nuziale dell'anziana. Il giovane, che ora si trova gli arresti domiciliari, spacciandosi per un nipote della donna, la prima contattata telefonicamente le ha chiesto soldi facendole credere che gli servivano per risolvere un problema urgente e annunciandole che a ritirare il denaro sarebbe andata una sua amica. Poi, vestito da donna, con unghie laccate e capelli lunghi, si è recato nell'abitazione della vittima, si è fatto consegnare denaro e preziosi. L'anziana però ha notato una rosa tatuata su una mano e questo è stato uno dei motivi per i quali gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile Teatina, coordinati dal commissario Nicoletta Giuliante, sono riusciti ad identificarlo e ad arrestarlo con l'accusa di truffa pluriaggravata. Partendo chiaramente dalla descrizione molto particolare di questo soggetto, che in un primo momento era stato descritto come una persona di sesso femminile perché ne aveva l'aspetto e anche soprattutto gli abiti e un particolare quello di un tatuaggio di una rosa sopra il dorso della mano. Il questore Annino Gargano lancia un appello ed evidenzia che questo fenomeno è preoccupante poiché gli anziani, che sono sempre più in casa anche a causa dell'emergenza coronavirus, spesso si fidano di persone senza scrupoli. Quale questore della provincia di Chieti, atteso anche il verificarsi di una serie di episodi simili a quello per il quale oggi abbiamo arrestato l'autore di una odiosissima truffa in danno di persone anziane, è quella di non cadere in facili trabocchetti con telefonate dove appunto vengono segnalate delle necessità, un incidente, necessità economiche di avere soldi per fare fronte a spese improvvise. Quindi l'appello è di tenere alta l'attenzione e di contattare sempre al 112, al 113 le forze di polizia in modo da garantire con il nostro intervento l'evitare del verificarsi di questi episodi odiosissimi in danno di persone anziane.